E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video Oggi Cosa succede? Allora Viverò per 24 ore nella nuova fattoria che hanno creato da poco E vediamo com'è vivere nella fattoria Però dovrò vivere con le nuove cose Non con le macchine Dovrò vivere con le macchine nuove E mica con le macchine vecchie Quindi Usiamo la prima macchina nuova Che è questa Cambiamo e mettiamo un pochino Mettiamo il mais Il mais è molto buono da mangiare raga Avviamo qui E facciamo passare qui dentro la macchina Facciamo passare qui dentro la macchina Ok Ora passiamo qui Ok E ora E niente Perché ci dovrò vivere Comincio Andando a fare una bella doccia Finito la doccia Devo andare in bagno Mi lavo le mani Mi spazzano i capelli Ok Posso andare a mangiare Cosa mi ha dato da mangiare Non lo so Vediamo una bella pizza Una pizza Pizza Fresca 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 Ok Metto la piatta di dentro Chiudo Aspettiamo che si fanno ora Ora metto 21 minuti Barra 79 Secondi Ok Fatta è buona Mettiamo qui Vediamo Oh Wow Qui abbiamo molto 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 grano Bello Buono Qui possiamo decidere Se mettere Il mais Se mettere Queste pianticelle Gli alberi Se mettere Le zucche Le zucche Molto buone Le zucche Se mettere Di nuovo Questo grano Oppure Mettere Infine Qua La terra Così Io direi Di lasciare La terra Così Come Chiudiamo La città E ora Cosa succede Io guardo Un pochino La tv Vediamo Un pochino Cosa c'è Ma Non so Di incidenti Incidenti Voglio vedere Vediamo Strisciare La notizia Incidenti Wow Basta Sono le 11 Dove andare A dormire Ora Nevo Chiudere Finestre Buonanotte Troca No 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 Alzo No 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 I ora Non Dormo Perché ho paura Troppa paura Troppa 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 paura Troppa 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 Scendiamo 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 Gira Di qui Ok Ora Dobbiamo andare Giriamo Andiamoci A prendere Un bellissimo Gelato Come faccio Non spesso Ma Certe volte Quindi andiamoci A prendere Un bel gelatino Gelato Sta arrivando Caro gelatino Quando sei bellino Ciao Gelato Ciao Gelato Devi passare Allora Io Prendo Un bubblegum Poi una vaniglia Un cioccolato No Vaniglia Già l'ho detto Uno A birthday cake Una vaniglia E uno Non so Non so Ma Prendo anche Il milkshake Mcshake 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 Ora però me li devo Usare tutti Che buoni Che buoni Vaniglia Cioccolato Bird day cake Bird day cake Bird day cake Il bubblegum Lo devo gustare Oh ti hanno rubato Oh ti hanno rubato la banca Come ti permette di rubare la banca C'è ma come ti permette di rubare la banca Come si permettono di rubare la banca Come si permettono di rubare la banca Che di tutti non è solo vostra Allora Ora dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo Saliamo Dove eravamo prima? Allora Qui Io ci salgo Wow Molto bello Quante carte Guardate ragazzi Allora Se io prendo la carta Questo Mi so che lo sapevano tutti Perché se io metto la carta qui dentro Poi mi paga E posso prendere La benzina Invece Poi Non mi può Finirà per forza E io lo rimetto Fatto 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 Devo andare Perché se non veramente rimane attaccato Ok Che dire ragazzi Il video finisce qui Ci vediamo domani Con un prossimo video Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la panellina E lasciate un bellissimo like E non mancano E non mancano nessun mio video Quindi Che dire Ciao Bye Bye Bye